Oggi è martedì 15 settembre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 15 settembre 1916. In furia la battaglia della Somme. Imponente serie di offensive degli eserciti francese e britannico sul fronte occidentale della Prima Guerra Mondiale, lungo una linea di una sessantina di chilometri tagliata in due dal fiume Somme. Per tentare di alleggerire la pressione portata dalle truppe tedesche, fa la sua prima apparizione in battaglia una nuova arma da guerra, il carro armato. Sono 32 i carri armati britannici che vengono lanciati contro le trincee tedesche, a bordo equipaggi ancora non addestrati. Ma lo Stato Maggiore Britannico non ha intenzione di aspettare ad impiegare in battaglia il nuovissimo mezzo corazzato, nonostante il parere contrario sia degli esperti sia degli stessi alleati francesi. E infatti bastano pochi metri di percorso, perché la metà dei carri vada distrutta. L'effetto sorpresa e il terrore che l'avanzata del nuovo mezzo induce permettono in un primo momento di disorientare l'affanteria tedesca e di fare un numero di prigionieri superiore a quello abituale. Ma una volta che i carri armati superstiti arrivano alle trincee nemiche, i risultati ottenuti non si rivelano decisivi. Nel complesso, la battaglia della Somme si rivela un fallimento strategico per gli anglo-francesi e uno degli episodi più sanguinosi della Prima Guerra Mondiale. L'esordio in battaglia, seppur disastroso, del carroarmato britannico apre comunque la strada allo studio di nuove versioni da parte degli eserciti francesi e tedesco. Il primo, a concepire l'idea del carroarmato e a ipotizzarne la struttura con un progetto oggi conservato al British Museum, è stato Leonardo da Vinci nel 1485. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, dodici minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felice. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri dodici minuti di oggi. Buona giornata.